ciao allora volevo appoggiare il telefono qua a qualche parte di decente ma non trovo un posto dove mettere il telefono perchè lo sto caricando e mi scivola quindi lo dovrò tenere così scusatemi e tenetevi aspettate che vi saluto mi si sta imparando il telefono ok ciao allora mi stanno larghissimi quindi ho dovuto fare quella cosa che si mette il bottone dentro il coso della cinta per stringerli allora reso conto della serata praticamente dopo teoricamente dovrei andare da una mia amica e mi devo truccare quindi ho detto vabbè mi trucco in compagnia che poi così faccio una fatica tipo leggere i commenti perchè allora facciamoci una mascherina ove una maschera facciamo una maschera per gli occhi per gli occhi cioè per le occhiaie più che per gli occhi allora adesso metto la musica avete sentito il nuovo album degli psicologi ditemi di sì se no andate via da questa live così dovrebbe funzionare no se io faccio così facciamo un po' ta da da c'è un silenzio strano che devo colmare con la musica perchè se no è strano ok mi piace la mia mascherina devo pensare nell'ugrano perchè non mi sta sul telefono quando mi è bastato il mio caricatore mi sono stufata che canzoni metto? mi consigliate qualcosa? non so cosa mettere cosa metto cosa metto cosa metto cosa metto cosa metto cosa metto ma perchè mi scivola sta mascherina aspettate cati ah niente è qua la cati metto la posse fuori io me le devo mettere tipo fino a qua perchè se no dopo mi scivola no nuovo album psicologi allora metto quello soffi ma sei in italia no sono a strasburgo non ho voglia di stare qua voglio andare via voglio tornare in italia voglio aver fatto la maturità voglio aver fatto la maturità cioè tipo per poter schippare tutta la maturità e arrivare direttamente all'estate perchè io già mi immagino l'estate come sarà ma nel mentre c'è un po' questo pezzettino al quanto importante che è la maturità che devo fare comunque prima sto ascoltando pagina perchè è una delle mie preferite grazie soffi verrà in puglia perchè quando verrà in puglia non lo so ancora non è programmata però non si sa mai devo truccarvi però ancora più le vecchie foto dove sono io da allora adesso io non mi impongo i miei gusti musicali sulla gente ma devo aspettare altri due minuti tipo per la maschera che beccio sono giurata di andare in palestra qua in Francia prima di tornare in Italia così sarò pronta per la prova costume perchè siamo un po' vesti maluccio però non lo so non riesco a trovare la motivazione quindi procrastinerò ancora un po' finchè non arriverà l'estate e tipo mi deprimerò no vabbè fa lo stesso vestitamente sono diventata molto più body positive quindi sono queste meglio così me la vivo meglio io mi deprimerò mi deprimerò mi deprimerò non è solo ma è solo sconosciuto che ci fa il tuo direi so ma ma questo perché è il trauma è proprio tutto l'album se fosse la mia playlist quindi per i miei capelli io sono indecisa perchè non so con cui mi stanno meglio corti o lunghi ok dovrei aver finito e adesso metterò la mia playlist ma sono troppo belle queste canzoni cioè come si fa però devo devo ok facciamo un po' così che poi non sapevo se fare una diretta dove mi cliccavo o tipo in video che ti fuma wits si sente un po' giù mi sembra quali detti sui corti c'è di poco sopra spalla o di po'